Ciao a tutti, come attrarre l'uomo della tua vita? In questo video voglio insegnarti come attrarre l'uomo della tua vita, quali sono le strategie e i metodi comportamentali per attrarre l'uomo della tua vita. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco e se vuoi delle risposte precise, mirate alle tue domande, abbonati al canale. Abbonandoti al canale potrai partecipare a delle live mirate dove risponderò in diretta alle tue domande specifiche. E veniamo al tema, veniamo al tema come attrarre l'uomo della tua vita. Allora, intanto la prima cosa che devi fare è evitare di attrarre quelli sbagliati, cioè o perlomeno evitare di essere tu attratta da quelli sbagliati. Perché questo, questo è sempre un'insidia che si può manifestare comunque. Quelli sbagliati quali sono? Beh, sono quelli che hanno i valori diversi dei tuoi, fondamentalmente. Perché tanto l'attrazione, se senti attrazione, lo capisci da sola. Non è che c'è bisogno di fare un corso per capire se provi attrazione o meno per un uomo. Questo lo capisci direttamente da sola. Se c'è coinvolgimento emotivo lo capisci da sola, ma non è sufficiente. Prima di innamorarti devi capire, è tassativo capire se ha valori condivisi con i tuoi. Altrimenti andrai a scontrarti contro i mulinaventi, andrai a combattere, diciamo così, una guerra persa. Perché ti innamorerai, ti coinvolgerai con chi di fatto ti farà soffrire, con chi di fatto non ti darà quello che invece può darti, diciamo così, un uomo. Quello che di fatto può darti l'uomo giusto per te, fondamentalmente il concetto è questo, no? Quindi i valori rispondono alla domanda che cosa è importante per me. Quindi prima di innamorarti assolutamente, devi capire quali sono i valori di questa persona. Se tu non riesci a capire, non riesci a cogliere quali sono i valori di questa persona, è molto meglio che non ti innamori perché correrai dei rischi enormi. Farai, prenderai l'ucciole per lanterne. Cioè la cosa peggiore che ti può capitare è quella di non sapere quali sono i valori di una persona. Se tu non sai quali sono i valori di una persona, ci sbatterai il naso e ce lo sbatterai in modo brutale. Quindi, una volta che hai capito quali sono i valori di una persona, attrarlo vuol dire dare degli stimoli. Perché di fatto se i valori sono simili, la parte logica sua di questa persona dovrebbe essere coinvolta da subito. Basta fargli percepire quali sono i tuoi valori. Ripeto, i valori sono che cosa è importante. Se tu vuoi una famiglia, è inutile che ti vai cercare uno che vuole tutto meglio che una famiglia. È la cosa peggiore che tu puoi fare. E non dire, ma li trovo tutti così, non è vero. Però se tu li trovi tutti così, è perché attrai un tipo di uomo sbagliato, perché ti nutri del male, non del bene. Eh, ti nutri del male, non del bene. Questo devi tenere presente. Altrimenti non attraresti, altrimenti non ti coinvolgeresti tu su questa tipologia di uomini. Ripeto, se tu vuoi una famiglia, se tu vuoi dei figli, se tu vuoi una relazione stabile, la famiglia del mulino bianco, non devi trovarti quelli che invece vogliono esattamente il contrario. Perché non avrebbe senso. Sarebbe la cosa peggiore che tu puoi fare. Sarebbe veramente la cosa peggiore che tu puoi fare. Ecco quindi che devi imparare ad attrarre le persone giuste. Allora, come fare, una volta che hai capito che quella lì è la persona che ha i tuoi stessi valori? Intanto manifestare quelli che sono i tuoi di valori. E poi dare degli stimoli. Gli stimoli sono abbastanza semplici. Ad esempio, la camminata. La camminata devi, usando i tacchi, avere una camminata ancheggiante, perché farà portare la sua attenzione sulle tue anche. E questo è un parametro che piace molto all'uomo. In più, darà modo di osservare la curvatura della schiena, e questa curvatura della schiena, se è leggermente accentuata, vieni percepita come donna più fertile, da questo punto di vista, e c'è un'istintiva attrazione verso questa tipologia di donne. Ovviamente, devi anche corrispondere un po' ai canoni estetici. Quindi, è evidente che i canoni estetici, qua del mondo occidentale, li conosciamo tutti, per cui devi prenderti cura del tuo corpo. Fare una dieta, fare attività fisica. Questo, io lo dico, talvolta lo do per scontato, ma non è così scontato. Cerca di non abbuffarti di lasagne, maccheroni e dolci, perché poi, come dire, se trasudi, grasso da tutte le parti, beh, insomma, perdi molte chance, perché comunque l'attrazione, anche visiva, è molto importante. Mantieni un linguaggio non verbale morbido, perché mantenere un linguaggio non verbale morbido, morbido, genera femminilità. E un uomo è attratto da tutto ciò che è femminile. Un uomo che sia un maschio, diciamo così, alfa, è attratto da tutto ciò che è femminile. Quindi, ed è femminile quello che si differenzia dal maschile. Quindi, devi cercare di mantenere una comunicazione non verbale morbida. Devi sorridere spesso. Il sorridere con gli occhi. Sorridere con gli occhi, no, no, risate sguagliate, ma sorridere con gli occhi, sì, perché dà, diciamo, una... È uno stimolo, comunque. Gente allegra ce l'aiuta, ti dà un'immagine di positività, ti dà un'immagine di donna attraente. Giocare con i capelli, alzarli, muoverli, tenere i capelli lunghi è sempre in ordine. Ecco, due fattori che vanno curati sono i capelli, sempre in ordine puliti, vaporose e profumati, se sono lunghi è meglio. Curare le mani, le mani anche vanno curate molto. Giocare con i capelli produce ferormoni ed è un qualcosa di molto utile. Quindi, toccarsi i capelli, evitare di attorcigliarli in questo modo, perché dai un segnale negativo di possessività. Poi, interagendo con questa persona, cercare il contatto fisico casuale. Se riesci anche a mantenere, magari, anche un contatto fisico con una mano sulla spalla per un certo tempo, dai subito una buona impressione, perché vai a stimolare la produzione di ossitocina. E l'ossitocina è l'ormone, diciamo, che vivono, che hanno le persone quando sono innamorate, per cui questo è un segno molto, molto importante. Mentre parli, cerca di mostrare i polsi, perché i polsi, anche qua, a livello, diciamo, analogico, subliminale, sono segnali molto seduttivi, agganciano molto la parte emotiva. Utilizza, diciamo, anche il tono di voce. E col tono di voce devi capire, a livello emotivo, se questa persona è stimolata da un tono di voce un po' più alto, un po' più duro, con i tratti sopra e sotto segmentali della voce un po' più duri, oppure un tono di voce più morbido. Questo lo capisci usando, variando un po' il tono di voce, vedendo, dirimando gli stimoli, le risposte emotive che dà questa persona. Ecco, poi è molto importante calibrati sulle risposte emotive che ti dà questa persona. per capire se gli stimoli che comunque stai mandando sono giusti, sono corretti. E gli stimoli, le risposte non verbali possono essere, se sono positive, sono legate alla bocca. Tutto quello che avviene attorno alla bocca viene considerato emotivamente gradito, modicarsi le labbra, tocarsi le labbra, e tutto quello che avviene attorno al naso viene considerato emotivamente sgradito. Ad esempio, toccarsi il naso, oppure raschiamenti, andare indietro col corpo. Ecco, questo feedback ti è utile per capire se stai dando le stimolazioni giuste. Ecco, una volta che tu hai dato questi stimoli, prodotto del gradimento, hai manifestato quelli che sono i tuoi valori, ed è importante che tu abbia verificato prima che i suoi valori siano analoghi ai tuoi, perché andare a stravolgere i tuoi valori per uniformarli a quelli dell'altra persona è estremamente negativo, perché ti troverai poi a letto con il nemico, tra virgolette. Ti troverai poi proprio con una persona sbagliata. Invece, riuscire a fare questo darà stimoli molto importanti, ti permetterà di ottenere i risultati molto importanti. Una volta che tu hai fatto questo, hai dato gli stimoli, beh, diventa molto semplice. Questa persona qua, capirai che gli stimoli sono giusti quando inizierà a corteggiarti, inizierà a invitarti, inizierà a provarci con te. Ecco che allora dovrai semplicemente aumentare, incrementare il gap emotivo, le emozioni fornite, allontanandoti un pochettino, facendo vivere un po' di rifiuto e un po' di allontanamento, quindi stimolando il desiderio. In questo modo dovrai spingerlo ad investire su di te. Ma se hai fatto bene i primi passi, lui investirà su di te. Investirà il suo tempo, investirà le sue energie, e ti inviterà a cena, magari ti inviterà da qualche parte a passare un weekend, ti farà regali, ti farà delle cose, insomma, metterà in atto un corteggiamento importante. Ecco, quindi da questo punto devi far passare del tempo, è importante far passare del tempo. Se tu riesci a far passare del tempo, riesci a mantenere una situazione positiva, da questo punto di vista, tensionale, diciamo così, più lui investe, più si coinvolge, più si innamora. Poi, una volta che hai fatto i giusti investimenti, è stato stimolato, a quel punto lì, se i valori sono simili, beh, è naturale che la relazione parta, parta con il piede giusto, questa persona si coinvolga, si sia creato un legame chimico molto forte, investirà ancora di più, e avrai praticamente, senza neanche rendertene conto, conquistato l'uomo della tua vita. avrai attratto e conquistato l'uomo della tua vita. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e se vorrai qualcosa in più, delle lezioni mirate, dove io risponderò alle tue domande in diretta, abbonati al canale. Ciao a tutti!